Di cosa hai bisogno quando cerchi uno psicologo? Almeno io cercherei una persona che sapesse empatizzare con i miei problemi, che riuscisse a farmi vedere delle possibili soluzioni verso una felicità. Seconda cosa, vorrei sapere quanto vado a spendere per questo percorso. Terza cosa, mi piacerebbe sapere quanto durerà e quali sarebbero i risultati che otterrò lungo il percorso. Immaginati di esserti rotto una caviglia. Certo non vai dal medico dermatologo o pulista, pur essendo loro medici, andrai dall'ortopedico. La stessa cosa accade nell'ambito della psicologia e della psicoterapia. Durante la prima visita verrai orientato verso il percorso più adatto per te e attraverso il quale otterrai anche maggiori risultati. Chi segue i bambini piccoli infatti non segue gli adolescenti o non segue gli adulti. Questo ci permette un'alta specializzazione in minore tempo. E potrai aver sperimentato un po' di questa magia perché in qualche modo ti faremo provare cosa significa fare un percorso assieme al centro clinico La Quercia. Puoi prenotare il tuo primo consulto senza impegno di spesa sia online che in presenza. Ti aspetterà un ottimo caffè e un'accoglienza stupenda da parte di tutta la segreteria e da parte di tutti quanti noi colleghi. A presto, ciao!